Festa in Aula Nervi, coi saluti e la benedizione papale per i sei nuovi cardinali di Santa Romana Chiesa, insieme a familiari e amici fedeli che li hanno accompagnati a Roma. Ora rammenta loro Benedetto XVI. Confido nel sostegno della vostra preghiera e nel vostro prezioso aiuto. Udienza stamane ai protagonisti del quinto concistoro di Josef Ratzinger. Per momenti di intensa preghiera e profonda commozione, li ricorda il Papa prima di salutare, una ad una, nella loro lingua, le sei nuove porpore. Quella del patriarca maronita libanese, Beshara Butrosray, è un incoraggiamento ai cristiani del Medio Oriente, è un appello per la pace in quella regione, la definisce. Pace che non sarà mai efficace senza un autentico rispetto dell'altro. Pace e concordia anche per la Colombia, invoca il pontefice rivolto a Salazar Gomez di Bogotà, per camminare verso la riconciliazione e la solidarietà. Poi gli anglofoni Harvey, statunitense, Onayekan, nigeriano, Tothunkal, indiano e Tagle, filippino. Confido che li sosterrete con la preghiera e il vostro aiuto, dice il Papa ai loro accompagnatori, spiegando che i cardinali sono chiamati a condividere in special modo la sollecitudine del successore di Pietro per la Chiesa Universale, fino a versare il sangue, simboleggia la porpora della berretta imposta loro sabato, ieri invece messa nella solennità di Cristo Re. Essere discepoli di Gesù, ha spiegato l'omelia di Ratzinger, significa non lasciarsi affascinare dalla logica mondana del potere.